L'assessore ai tributi del comune di Pescara, Filippello, spiega quali siano le categorie che potranno beneficiare dalla sospensione del pagamento della rata IMU stabilita dal governo centrale e che si sarebbe dovuta versare entro luglio. Come ascolterete si tratta soltanto dei proprietari di case e di civile abitazione, mini alloggi, case popolari o anche villini comunque realizzati con materiali indispensabili, economici. Per spiegare l'assessore utilizza i codici dell'accatastamento. Quest'anno c'è stata un po' di confusione, sicuramente questo tributo scomodo. Quello che posso dire è che il provvedimento che è stato adottato dal governo prevede la sospensione dei pagamenti per gli immobili accatastati da A2 ad A7 che risultino come abitazione principale per i nuclei familiari. La sospensione vale anche per le pertinenze una per ogni categoria catastale, cioè C2, C6 e C7. Per le altre tipologie di immobili, quindi A1, A8 e A9, non vale la sospensione. Ville, Castelli ed altre abitazioni di prestigio sono naturalmente, come ha spiegato l'assessore, escluse da questa sospensione. Tutti gli altri dunque l'IMU dovranno pagarla e dovranno versare un acconto secondo le modalità che ci spiega ancora l'assessore Filippello. Dovranno versare entro il 17 giugno il 50% o del totale versato l'anno precedente oppure si prende la liquida deliberata il 31 ottobre e si verse il 50%. Ma attenzione, c'è un'altra novità. Questa quota va tutta versata nelle casse comunali. Salvo per i capannoni industriali però, per i quali bisogna seguire questa procedura. Si prende la liquida media, il 7,6 per mille, si divide per due e per la differenza che dice 25, quindi dice 25 meno 7,6, il 50% viene versato al comune. Questi introiti in più per il comune, spiega l'assessore Filippello, però non saranno sufficienti a risolvere i problemi. Il comune non rimarrà niente, sicuramente ci avrà ulteriori tagli, quindi sarà un saldo negativo. Grazie. 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 Grazie.